Benvenuti nel canale Fabio Picce. Pierfrancesco Forleo, marito della conduttrice televisiva Elisabetta Ferracini, è scomparso all'età di 62 anni. Forleo era un dirigente molto amato nella Rai, dove ricopriva il ruolo di responsabile della direzione diritti sportivi. Affettuosamente chiamato il principe per la sua gentilezza, la causa della sua morte non è stata ancora specificata. Elisabetta Ferracini, figlia della famosa presentatrice Mara Venier, ha ottenuto grande popolarità negli anni 90 grazie alla conduzione del programma per ragazzi solletico, trasmesso su Rai 1 nel pomeriggio, per diverse stagioni. La scomparsa di Pierfrancesco Forleo rappresenta una grande perdita, per la Rai e per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui. La famiglia e i colleghi gli rendono omaggio ricordando il suo carattere affabile e la sua dedizione al mondo dello spettacolo.